Persone con disabilità, altre con gravi problemi di salute, anziani ma anche animali, che sono ormai da due mesi come intrappolati in casa. In questo stabile di via Raffaele Guariglia, nella zona orientale di Salerno infatti, è da oltre otto settimane che l'ascensore è fuori uso, e così chi vive su una sedia a rotelle, chi per motivi di salute non può uscire o rientrare, se non raggiungendo le proprie case con l'ascensore, come è sequestrato in casa. Questa signora, ad esempio, non è più uscita da quando l'ascensore è fuori uso, due mesi senza mettere piede fuori dal proprio appartamento, se non per una boccata d'aria sul terrazzo condominiale. Privata dell'unico momento di svago in una giornata, la passeggiata nel parco proprio di fronte agli stabili di via Raffaele Guariglia, una situazione ormai al limite e che riguarda anche tanti altri inquilini. In molti, ad esempio, specie agli anziani, fanno anche difficoltà ad uscire per le casse a messa o fare la spesa. Tante le richieste che gli inquilini hanno già fatto si sono rivolti ai vigili del fuoco, che però hanno messo fuori uso l'ascensore perché non sicuro, e poi le continue telefonate all'Istituto per le Case Popolari, con continui rinvii però nel tempo, ed una situazione che quindi non cambia. Ora anche la richiesta di un interessamento da parte del Comune di Salerno e soprattutto l'intenzione di presentare denunce ai carabinieri. Noi siamo praticamente da due mesi bloccati in un palazzo dove ci sono un sacco di persone con invalidità. La prima è mia mamma, in primis, che dopo i vari vaccini, le varie cadute, la mamma è rimasta bloccata su una sedia in hotel. L'unico svago era scendere e fare un giro e soprattutto delle terapie che ha fatto fino a 40 giorni fa e adesso i medici non vengono a casa, però lei ha stoppato. C'è un ragazzo che ha avuto un infarto ieri al sesto piano, con diabete, cammina con le stampelle, un signore cieco nel primo piano, al terzo piano c'è una 94enne, al sesto piano altrettanto una persona cardiopatica, quindi comunque siamo in un palazzo almeno con 6-7 persone con invalidità bloccate e abbandonate a noi stessi, perché mamma fa un giro nel parco, incontrava una persona, un caffè, un gelatino, si riprendeva come un bimbo piccolo, lo porti a prendere aria e dorme. Adesso si fanno le notti insonne perché non c'è aria, non c'è svago, non c'è persona che ti aiuta, non ci sono persone che sollecitano anche. Questo ascensore viene aggiustato per un periodo di tempo, dopo una settimana non funziona più, nel palazzo c'è gente invalida, c'è gente cardiopatica. Abbiamo sollecitato l'ufficio dell'Istituto delle Case Popolari che ci hanno detto che intervengono, 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 questo intervento non avviene mai, sono passati due mesi e siamo abbandonati proprio, siamo sotto sequestro. Persone che non possono uscire per fare una visita, ho dei cani che quando scendono e salgono sopra ormai non ce la fanno più, siamo abbandonati da tutti. Pensate di presentare una denuncia? Sì, noi stiamo raccogliendo delle firme perché non ce la facciamo, siamo arrivati proprio all'esasperazione. Già abbiamo raccolto un bel po' di firme e vorremmo procedere per via legale perché è diventato impossibile. Noi paghiamo e abbiamo solo risposte che verranno, 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 ma sono passati due mesi e siamo ancora qua.